Buongiorno, benvenuti, aspettate un attimo che cerco di mettere a posto anche questa diciamo questione su Instagram. Benvenuti a tutti alla rassegna stampa di oggi, martedì 15 ottobre, vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto sicuramente il tema fondamentale della giornata è la manovra finanziaria, Instagram non funziona. La manovra finanziaria di oggi verrà approvata questa sera dal Consiglio dei Ministri e in realtà ieri non si sono messi d'accordo, hanno litigato come delle bestie ieri sera e non solo ieri sera, anche domenica perché secondo i giornali non vanno d'accordo praticamente nessuno con nessun altro perché come vi posso dire non va bene Di Maio con Conte sulle manette, non va bene Renzi con Di Maio, insomma sta succedendo un gran pasticcio all'interno della manovra. Il punto che oggi i giornali pongono come diciamo grande conquista di questa manovra finanziaria sapete qual è stata e ci sarà una riduzione del tetto ai contanti, cioè secondo il Corriere della Sera i contanti non potranno più essere mi sembra il limite tra il 5 mila euro che c'è oggi ma mille euro. Così l'Italia cresce. Allora voi pensate che state pagando 10-12 mila euro al mese un parlamentare, state parlando un governo che arriva con la sua macchina blu, ci mette sopra la sirena e avete visto come gira Gualtieri con un impettito perché è il ministro dell'economia? Che cazzo partoriscono questi per lo sviluppo di questo paese? Si mettono i geni tutti intorno a un tavolo, lo convocano i sindacati, fanno le riunioni, noi giornalisti gli lecchiamo i piedi per poterli avere in trasmissione, cerchiamo di capire qual è il futuro di questo paese e che cosa inventiamo? Inventiamo il fatto che non possiamo usare i contanti. Yes, grande operazione, veramente grande operazione, il paese adesso da questo momento in poi farà un balzo incredibile, avremo più bambini, avremo più ricerca scientifica, avremo i giovani occupati, avremo le università che funzionano, avremo dei politici straordinari, tutto perché abbiamo deciso che possiamo avere massimo in portafoglio 1000 euro, ma vi rendete conto? Ma questi ci stanno prendendo per il culo e voi ci credete perché quando vi dicono che i contanti sono l'evasione eccetera, siamo tutti lì contenti, beh però insomma chi se ne frega se uno prende 5000 euro vuol dire che è un miliardario, invece questo è il piccolo passo verso l'inferno, pensare che aumentare le tasse, ridurre i contanti, mettere più burocrazia, più controlli, possa permettere a un paese di svilupparsi, questo paese muore se pensa alle cazzate come i contanti, nel frattempo invece pensiamo alle cose un po' più intelligenti e cioè cosa facciamo? Tasse sul diesel, sulla plastica e sulle sigarette, lasciamo perdere le sigarette per un attimo, ma secondo voi, secondo voi le tasse sulla plastica chi le paga? Babbo Natale! Le tasse sulla plastica chi le paghiamo? Tutte quante noi! E poi ti dicono facciamo un po' di aumenti per gli statali, prendiamo un miliardo per gli statali e lo finanziamo con le tasse sulla plastica, io dico, mi viene, vabbè, insomma, è veramente, è questo, è la manovra economica, rissa sui conti, titola mi sembra il messaggero, il consiglio dei ministri di liberato oggi, Italia viva, discute su tutto, questa è l'altra grande storia, cioè Renzi col 4% è arrivato lì e inizia a rompere le scatole su tutto, peraltro spesso con buona ragione, però conoscendo il personaggio, proprio per rompere le scatole, è lo scorpione della favola, perciò quello che oggi scrive Travaglio, il portavoce del Movimento 5 Stelle, sul giornale dei 5 Stelle, cioè il fatto quotidiano, non so quanto sia vero, perché è anche convincente nella sua costruzione, cioè dice Travaglio di Renzi, ma Renzi bisognerebbe ignorarlo, quello c'è il 4%, lui dice supera di poco la soglia del 3, non lo so, comunque ha il 4-5% che più o meno i voti che ha oggi Forza Italia, quindi non lo sottovaluterei in un sistema proporzionale, ma dice Travaglio, dice che col suo 4% non potrà mai far cadere il governo, punto primo, perché magari i suoi imbullonati alla sedia non ci stanno a farlo cadere, e poi quanto rompe Renzi, per quanto possa rompere, se poi si va alle elezioni, prende una batosta tale, dice Travaglio, per cui in realtà è la storia di quello che minaccia, 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 tipo la guerra nucleare, della guerra fredda, ma non la puoi mai fare la guerra nucleare, perché se la fai sei prima a morire, questa è la tesi di Travaglio, ma sottovaluta il personaggio, l'uomo, lo scorpione, che pur di ammazzare la rana, ammazza se stesso, secondo me questa è l'interpretazione migliore del personaggio, però oggi Travaglio la vede diversamente. Il Sole 24 Ore invece ci racconta un altro punto di vista sulla manovra che poi commenteremo ovviamente domani, e cioè che taglieranno le detrazioni del 19% a coloro che hanno redditi superiori ai 120 mila euro, nel frattempo renderanno invece detraibili al 19% artigiani, commercianti che fanno fattura per lavori e cose di questo tipo. Allora io mi chiedo, qual è la logica per cui tu togli le detrazioni a quelli che hanno 120 mila e le metti sui commercianti? Vuol dire che tu, sopra 120 mila euro, togliendo le detrazioni, togli ogni conflitto di interesse nel poter scaricare, ma comunque se la vogliono fare la facessero, ma questo cosa vuol dire? Aumento delle tasse per chi guadagna più di 120 mila euro, va bene, anche così perché i ricchi fanno schifo a tutti, tanto i soldi li fanno i politici riducendo il contante. La storia di De Benedetti è una storia fantastica, guardate vi dovete appassionare non tanto per De Benedetti e non tanto per Repubblica, ma perché quando oggi leggete l'intervista di Aldo Cazzullo a pagina 19 del Corriere della Sera, ne parla un po' anche se in maniera diciamo un po' più nascosta e celata anche Francesco e anche Merlo sul foglio, beh voi vedete il padre che uccide i figli e dice dei figli delle cose incredibili, i miei figli sono incapaci di gestire il giornale, sono delle pippe, glielo devo togliere, ma come lo paga 25 centesimi gli chiede Cazzullo, è certo che glielo paga 25 centesimi il giornale, perché questi l'hanno gestito talmente di M, di merda, che io lo prendo a sconto, ma come lo prende a sconto? Sì lo prendo a sconto e dovrebbero anche ringraziarmi, perché dovrebbero ringraziarla? Perché da quando ho fatto l'offerta il titolo è salito del 10%, spero che questa non sia una delle solite moscolate di borsa dell'ingegnere, cioè che fa le dichiarazioni e poi si guadagna i 100-200 mila euro sulla speculazione, ma se così non fosse è una storia straordinaria, in cui c'è la famiglia, in cui c'è il debenedettismo, in cui sembra una di quelle grandissime saghe di Soul Bellow, in più aggiungerei, non mi piaci, ma chi sei? Dottor Gekir e Mr. Hyde, Rosangela, vabbè c'è sempre qualcuno che mi dice che sono Dottor Gekir e Mr. Hyde, non so se l'ha scritto bene, adesso Janet Grande Nicola, ma sei uno dei pochi che non ha problematiche, insomma vi ringrazio i tanti che si stanno collegando ora, ma la cosa del debenedetti che mi diverte di più è quello che lui dice che vorrà fare del giornale, e cioè lo prende, lo regala a una fondazione, i primi due anni della fondazione li gestisce lui e poi diventa una specie di giornale gestito da una fondazione dei giornalisti, molto interessante invece il punto di vista, secondo me, della verità, dice che i figli potrebbero addirittura fare delle azioni legali contro il padre, ma l'intesi del foglio forse più giusta è che la crisi di Repubblica è una specie di matriosca, perché la crisi di un giornale all'interno delle crisi dei giornali, tutti in crisi, e la crisi soprattutto del giornale di sinistra all'interno della crisi della sinistra, che è obiettivamente straordinaria in questo momento, si quotano per parlare di finanza le Dr. Martins, foto in prima pagina in sole 24 ore, è divertentissima l'idea che queste scarpe iconiche in realtà valgono un miliardo di euro, a proposito di finanza, all'Italia, secondo il messaggero, si sarebbero messi d'accordo il governo con Atlanti e le ferrovie dello Stato, che vuol dire che Benetton non sono più così infrequentabili e starebbero per fare un'offerta vincolante al Ministero del Tesoro. Intanto gli immigrati sembra che non ci sia più problema, adesso io non so se è Salvini o non è Salvini, ma è oggi la bullion sul giornale, in prima pagina scrive una cosa sacrosanta, c'è un vero e proprio assalto, non c'era da mesi, oggi facciamo finta di nulla, perché non c'è più Salvini e quindi non ne puoi parlare male, ma non ne puoi parlare neanche del tema che lui ha posto, e cioè il tema è molto banale, abbiamo preso Ocean Viking, che è una nave che non è italiana, che non batte bandiera italiana e che sta facendo lì l'ONG, prende 200 disperati e li porta a Taranto, perché a Lampedusa non c'è più spazio, nel senso che abbiamo gli hotspot talmente pieni di gente, di immigrati, che fra qualche mese ci accorgeremo, la morgese permettendo che in Italia sono arrivati migliaia di immigrati, zitti e muti, pensando che questo governo si regga soltanto sull'uscita di Salvini, complimenti alla vostra scelta, tra l'altro molti di voi ieri mi hanno criticato, ma come l'ha trattato male Salvini ieri sera a Quarta Repubblica, io faccio giornalista, come voi ben sapete, soprattutto in questa zuppa, è proprio voi che mi seguite tutte le mattine, come penso io degli immigrati, cosa penso io della politica economica, Salvini ha fatto molto bene la politica degli immigrati ed è firmato insieme ai grillini delle manovre di merda come il reddito di cittadinanza e il decreto di dignità, lo possiamo dire? Sì, e tant'è che io glielo ho detto anche a lui ieri sera. Politica estera, i due temi fondamentali sono ovviamente la Turchia e l'invasione siriana in cui il titolo principale oggi di Repubblica è Europa, vergognati, e ne abbendonde di vergognarsi devo dire l'Europa, con Valli che ci spiega sulla prima pagina della Repubblica che il tentativo di Erdogan non è soltanto militare di occupare quella parte della Siria come stato cuscinetto che non vuol dare certamente ai suoi nemici curdi, ma soprattutto per politica interna perché stava andando male alle elezioni amministrative, per lui era un grande smacco e quindi lui voleva dare un segno. Ragazzi, un po' come fece la Thatcher con le Malvine o come si chiamavano le isole durante il primo mandato che la fece diventare grandissima, diciamo che la fece rileggere alla grandissima. E poi l'altra grande storia di politica è quella dei separatisti spagnoli che visti i loro leader condannati a delle pene incredibili, 13-14 anni, hanno fatto proteste che non smetteranno certamente nelle prossime ore. Bene, speriamo che cada il governo dice Maria Sofia, la pseudo-ministra della Morgese è esattamente come la Mogherini, due nullità, dice qualcuno di cui non leggo, e poi vedo anche su, siamo un popolo di pecore, su Instagram qualcuno mi scrive, ciao Rita, ciao Speranza, vedo anche Antonio, non l'hai trattato male, ha detto la verità. Bene, io vi ricordo che da questo momento in poi, ai tanti che mi seguono su questa zuppa e su questo Instagram, da questo momento in poi potete prenotare il mio libro, fatemi fare un po' di spot per favore, io campo di quello che dico e quello che scrivo, quindi il mio libro si chiama Le tasse invisibili, che voi pagate senza accorgervene, o almeno qualcuno le sa, ecco Françoise, eccola là, pronti siete, ecco Françoise che se lo ricorda, la saluto, Le tasse invisibili, prenotatela, io mi auguro dal vostro libraio, cioè se voi avete un bel libraio di quelli sani sotto casa vostra che vi consiglia il gran romanzo, eccetera, andate lì e mi chiami, mi fai arrivare per favore qualche copia delle tasse invisibili, se non avete il libraio sotto casa vostra, la trovate già, la copertina la vedete già su Amazon, trovate la copertina su Amazon e il 24 ve lo spedisce direttamente a casa vostra, quindi o il vostro libraio, io adoro i librai e quindi insomma a me l'idea romantica che i librai ancora facciano il loro mistero e mi piace molto, poi ce ne sono 4 o 5 anche liberali che vorrei trovare e dei quali vado sempre a presentare il libro, perché sono delle specie di merce rara, già lo sono i librai, le librerie, figurateli un po' voi se sono anche liberali, quindi le tasse invisibili, spottone alla fine della mia zuppa, vi farò due palle così sul mio libro, voglio che il mio libro sia letto dal numero maggiore possibile di persone, chiaro? È la mia grande ambizione, ciao!